Calcio, calciomercato, ci occupiamo della Pescara dopo la notizia ufficiale dell'ingaggio dell'attaccante Michael De Marchi, classe 1994, contratto scaduto con la Cittadella lo scorso anno, la Virtus Verona in Serie C, in uscita si registra il sorpasso del Benevento sul Ferenc Varos per Edoardo Masciangelo, dunque il giocatore resterà o dovrebbe restare in Italia. Le due società stanno discutendo sulla formula del riscatto del prestito biennale tra diritto e obbligo in caso di Serie A del club Sanita, 51 presenze con la maglia del Pescara nei due campionati di B, in via di definizione la trattativa per il laterale Zappella, classe 98, arriverà in prestito con obbligo di riscatto dall'Empoli, ex Cesena. Su Marco Pompetti, promettente centrocampista, cresciuto nel Pescara, classe 2000, ancora nulla di definito, di proprietà lo ricordiamo dell'Inter, lo scorso anno era alla Cavese in Serie C, portato da Peppino Pavone, ex DS del Pescara, 23 presenze ed un gol. Pompetti è il classico regista da 4-3-3, Auteri si affiderà al 3-4-3, in questo caso Pompetti dovrebbe adattarsi. Insomma, riflessioni in corso, intanto la società ha ufficializzato lo staff di Gaetano Auteri, il nuovo tecnico del Pescara ha voluto con sé Damiano Proto, allenatore in seconda, il preparatore dei portieri Luca Sebastiano Aprile che nel 2002-2003 ha vestito la maglia biancazzurra, una presenza in Serie C1, era il vice di Saul Santarelli nel Delfino di Ivo Iaconi che vinse il campionato, l'unica presenza il 2 febbraio 2003 per essere ancora più precisi. Pescara Martina 3-0, doppietta di Cecchini e gol di Palladini. Il preparatore atletico è Ermanno Ciotti, da nove anni alle dipendenze del Delfino, accanto a Ciotti c'è Francesco Petrarca, recupero infortunati, mentre il match analyst è Filippo D'Alessio, ex tecnico dell'Under 17, sostituisce Diego Labricciosa in procinto di firmare col Foggia di Zeman. Infine il team manager, come annunciato nei giorni scorsi, Francesco Troiano che prende il posto di Andrea Gessa. Intanto la Covizoc ha comunicato gli esiti delle domande di iscrizione, ammettendo quasi tutti i club ed escludendone 6. 1 di B, il Chievo, in C al momento sono fuori la Casertana, il Carpi, il Novara, la San Benedettese e la Paganese, oltre al Gozzano che ha rinunciato. Per i ricorsi ci sarà tempo sino al 13, poi il 15 deciderà il consiglio Figgici, poi ci saranno naturalmente i ripescaggi, non riammissioni e nell'ordine sono in corsa il Cosenza per la B, Latina primo della D dopo l'Aglianese, tra l'altro il Latina ha vinto i playoff nel suo girone, poi le retrocesse Lucchese, Pistoiese e Arezzo per la Serie C. Non il Fano, già riammesso nel 2019 e il Livorno in quanto penalizzato.